Amici 17 Mentre l'alunna stava scendendo le scale per raggiungere il palco Alessandra ha affermato di essere molto contenta che Valentina le abbia chiesto scusa e che abbia finalmente capito, in quanto poteva essere da buon esempio ora soprattutto dopo che ogni giorno si sentono alti g notizie di studenti, che fanno del male ai professori La Celentano ha dichiarato che quello che voleva puntualizzare la scorsa settimana era il concetto, e non il fatto che la Verdecchi non volesse farsi interrogare, in quanto poteva benissimo darle non classificato La Celentano ha quindi interrogato Valentina sulle dispense studiate questa settimana dedicate a Madonna, Beyoncé e Kilian Minogue. L'alunna ha risposto a tutte le domande perfettamente, e Alessandra ha dato a Valentina 6 La bionda conduttrice ha appunzecchiato l'insegnante chiedendo a Alessandra di interrogare, anche la sua pupilla Sepora e anche Brianna La Celentano ha accettato, ma è sembrato a tutti che le domande rivolte ai due ballerini di danza classica fossero troppo facili Lo stesso pensiero, l'ha avuto anche la De Chilippi. Amici 17. Alessandra Celentano infastidita da Maria De Chilippi Alessandra Celentano ha quindi chiesto, quanto segue a Maria De Chilippi ad Amici 2018. La conduttrice del programma, ha negato anche se ha affermato di aspettare domande prettamente di teoria come accaduto con Valentina La Celentano con riluttanza, ha iniziato a domandare nozioni di teatro e Brianna è subito apparso in difficoltà Alessandra l'ha quindi cercato di aiutarlo, ma ciò non è sfuggita alla De Chilippi, che ha attaccato l'insegnante Alessandra anche questa volta non è riuscita a tacere. Maria ha iniziato a ridere, e ha dichiarato, che doveva mandare la pubblicità Tornati da Nero, il teatrino tra Maria e Alessandra è terminato. La Celentano ha però voluto comunicare che dava zero all'interrogazione di Brianna .